Corone di fiori, silenzio solenne e un memoriale con migliaia di volti. Così, alla vigilia del giorno dei morti, il Messico si prepara a rendere omaggio alle quasi 300.000 vittime che il Covid ha mietuto nel paese. Una festività molto sentita per i messicani che Città del Messico ha voluto celebrare erigendo un'enorme offrenda, un altare funebre corredato da migliaia di foto. L'ispirazione per gli offrenda trova origine nel codice Mendoza, che fu istituito da Antonio de Mendoza, il primo vicere della Nuova Spagna, per spiegare a Carlos V come era organizzata la vita nell'impero azteco, ci spiega questo promotore culturale. Come da tradizione, in una festività che per i messicani ha soprattutto la funzione di esorcizzare la paura della morte, le strade sono state decorate con strutture raffiguranti enormi e variopinti scheletri. Durante le celebrazioni, che andranno avanti da domenica a martedì, le famiglie decoreranno le tombe dei propri cari con calendule arancioni e candele.